La missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea ha misurato in maniera estremamente accurata le velocità di oltre 30 milioni di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea. Nella galassia tutto orbita attorno al centro, come in un sottile disco in rotazione. Le stelle più vicine al centro impiegano meno tempo per compiere un'orbita completa, in maniera simile alle orbite dei pianeti attorno al Sole. Le regioni interne della galassia sono dominate dal cosiddetto bulge, un rigonfiamento centrale che contiene una struttura estesa a forma di barra, formata da un maggior numero di stelle rispetto alle regioni esterne. Il team di Gaia usa le nuove osservazioni dallo spazio effettuate durante un periodo di oltre tre anni per svelare le strutture cinematiche in prossimità del centro galattico, a circa 26 mila anni luce da noi. Le nuove osservazioni di Gaia rivelano la velocità delle stelle con una qualità senza precedenti, campionando regioni della galassia dalla barra centrale fino alle parti esterne del disco, che qui sono mostrate in giallo, verde e blu scuro. Le stelle più vicine al Sole sono mostrate in rosso e viaggiano a una velocità maggiore. Questi dati mostrano che le stelle nella barra centrale presentano moti di contrazione ed espansione, una conseguenza delle loro orbite attorno al centro della galassia, qui mostrate con andamenti alternati in blu e rosso attorno alla barra. Gaia ha inoltre misurato l'angolo in cui è orientata la barra centrale, circa 20 gradi. Il Sole viaggia attorno al centro della galassia a una velocità circolare di circa 240 chilometri al secondo e impiega a pressa poco 220 milioni di anni per completare un'orbita. La terza data release di Gaia contiene le velocità delle stelle insieme a numerose altre proprietà. La precisione delle misure di Gaia permette di mappare la velocità delle stelle che si trovano a distanze molto più grandi di quanto non fosse possibile prima d'ora, svelando dettagli mai osservati in precedenza. Grazie a tutti.